Lei l'ha vista stamattina? Stamattina no per dire la verità, l'ho veduto. L'ha vista? Con le petroliere. Ah lei andava sulle petroliere? Sì, era di rave, il fra diavolo si chiamava. Ah, quindi una stazza importante. Eh sì. Voi facevate anche voi a evitarle o? No, con i peschereggi sì, è capitato che faceva il nuvolo, lo vedevamo quando c'era il lampo. Ah ecco. Allora scappa dall'altra parte. E via, meglio evitare anche per voi. No, no, non è che ce ne riuscivamo, ma portava in coperta e portava via tutto. Tutto quello che c'è? Eh, ecco. All'è capitato di vederla una tromba d'areche su una nave? Sì, ma da lontano proprio. Da lontano? Insomma, non è simpatico? No, no, è brutto, meglio... Meglio fuggire. Allora fuggia. A foggia. Come sono? Eh come sono, c'è il segnale diciamo, nella notte è bianca, si vede questa tromba marina che cala, hai capito? Se no c'era di che beccarle diciamo, se non stavi all'erta. Dalla costa si sono veste parecchie volte. Comunque è un bel fenomeno, cioè al di là della pericolosità anche vederle... è bello vedere, ma è pericoloso e andarci incontro, insomma, non è piacevole. Ah, Senegaglia due anni fa è andata a fondo a una barca, noi pescavamo e lui è andata a fondo, roba di 20 chilometri. 20 chilometri, l'avete vista quindi mentre... Noi non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo vista, non l'abbiamo vista perché qui si lavorava e lui è andata a fondo. Perché comunque quando c'è, capito, a Pesaro c'è la tromba d'aria a Fano non c'è niente. È così che succede. Bisogna stare all'erta. Bisogna stare all'erta. Quante volte l'avete vista qui a Fano? Eh sai, in tutta la... Sarà 40 anni che andavo in mare, in 40 anni è capitato diverse volte. Più d'estate o d'inverno? No, più d'estate, quando si scontravano l'aria fredda con l'aria calda, si creava. Il signore prima ha detto che le ha evitate molto scaltamente, anche voi le avete evitate? Cerchi di evitarle perché quando le vedevi che si allungavano da una parte, te andavi dall'altra parte perché sono... Che voi vi ricordate qualcuno invece ha passato brutti momenti? No, i momenti li hanno passati, ma no, fanno dalle altre parti, sentivi a dire che se ti prende ti porta via tutto, è anche a bordo. Qui da noi la nostra marineria non ha mai avuto? No, almeno i vecchi di una volta non lo so, ma le nostre generazioni no. Cerchi di evitarle molte volte e non fa tanto bello, eh.